Se per alcune attività come la didattica a distanza avere una connessione è fondamentale, in altre situazioni ha generato una vera dipendenza tecnologica. La pandemia e l'isolamento imposto dall'emergenza sanitaria hanno reso la vita dei giovani ancora più virtuale, aumentando di conseguenza il numero dei genitori preoccupati per le ore interminabili che i figli trascorrono davanti alla tv, computer e smartphone. Il fenomeno denominato cyberdipendenza è una patologia che può avere gravi ripercussioni sulla salute mentale, ritmo cardiaco, le interazioni familiari, le attività sociali e la difficoltà, sempre maggiore, a distinguere tra vita reale e virtuale. Solo in Italia si stimano oltre 300.000 casi, con il 79% dei ragazzi tra gli 11 e i 18 anni che attiva il telefono anche 120 volte, dedicando più di 4 ore al giorno, ovvero 120 al mese. A restituire questi numeri è un questionario proposto agli oltre 2.000 adolescenti che l'associazione No Profit Movimento Etico Digitale ha incontrato nelle scuole di tutta la penisola per approfondire i rischi della vita online. Come ci spiega lo psicoterapeuta Semi Marcantonini, questa problematica riguarda anche i giovani della provincia di Pesero Urbino. Si è pensato più a prevenire il contagio piuttosto che fare un'azione di promozione della salute. E oltre al problema della dipendenza tecnologica, ci spiega, ce n'è anche un altro. L'assoluto calo dell'attività motoria, del movimento, che è un elemento fondamentale nello sviluppo del fanciullo, del ragazzino, dell'adolescente, cioè non tanto solo per il discorso di vento obeso, perdere la capacità attentiva, ma il movimento è uno strumento essenziale nel sviluppo della persona, della sua intelligenza emotiva, della capacità di essere un soggetto sano dal punto di vista psicologico nel futuro. Le istituzioni, ha proseguito Marcantonini, dovevano e dovranno mettere in campo delle azioni per permettere in particolare ai fanciulli e agli adolescenti di stare il più possibile all'aperto e fare sport. Nel limite del possibile bisogna attuare una prevenzione per cercare di non prendere il virus, ma mi sembra che nel tempo si è messa più attenzione al non prendere il virus, ma ci siamo persi di vista gli aspetti, come dicevo prima, della socializzazione, della relazione, del movimento. Abbiamo diversi casi qui sul territorio di dipendenze digitali che abbiamo dovuto trattare con l'aiuto della psichiatra. Sto parlando di ragazzini di 12, 13, 14 anni con crisi di astinenza molto più serie di un soggetto che usa eroina, perché la dipendenza digitale crea questo. In alcuni casi, in particolare per le ragazze over 13, è stato necessario un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio. Oltre alle istituzioni anche le famiglie possono fare qualcosa? Che la vita, innanzitutto vale la pena di essere vissuta, vale la pena di essere vissuta all'esterno, che lo sport è cosa buona, ma non per forza lo sport può essere il movimento, come abbiamo delle bellissime colline e delle bellissime spiagge. I genitori devono essere testimonianza che l'utilizzo della tecnologia è importante perché ci aiuta a vivere meglio, ma possiamo anche farne a meno, quindi dando regole, dicendo no, cercando di essere direttivi in alcuni casi, ma nell'altro cercare di essere testimonianza che il cellulare possa usarlo anche di meno.